. Ivana e Luca, la modella parla del possibile fidanzamento a mattino 5. Ivana Mrazova parla di Luca Onestini a mattino 5, la rivelazione inaspettata della modella. . Ivana Mrazova è stata ospite di Federica Panicucci a mattino 5 proprio oggi, 13 dicembre 2017. La modella ha avuto modo di tornare a parlare dell'esperienza vissuta al grande fratello Vip. Ovviamente, però, l'attenzione di tutti era concentrata sul rapporto nato tra lei e Luca Onestini. . Mentre lui non nega se trovare la ragazza molto bella sia dentro che fuori, lei tentenna un po'. . La bellissima ceca ammette di vedere nell'extronista una persona molto carina, ma per ora non cè ancora niente in più da raccontare di quello che è già stato detto nella casa più spiata d'Italia. . . Eppure, proprio poco prima della fine dell'intervista, la Mrazova si è lasciata andare ad una dichiarazione del tutto inaspettata. . . Grande fratello Vip, Ivana Mrazova, ecco cosa cè con Luca Onestini, dichiarazioni a mattino 5. . Ivana Mrazova continua a sottolineare che con Luca Onestini cè solo una bellissima amicizia. . . In ogni caso, entrambi sono tornati nuovamente single. . . Mentre lui non nasconde una certa attrazione, lei resta ancora un po' fredda. . A mattino 5, però, la modella cieca ha rivelato un particolare dettaglio che potrebbe essere il giusto spunto per un futuro fidanzamento con l'extronista. . . Ivana ha infatti dichiarato, se deve nascere una cosa, nascerà. . Io credo molto nel destino, mai dire mai. . . L'Occolto. Insomma, la terza classificata del grande fratello Vip ha le idee chiare e pare aver compreso che insieme a Luca formerebbe una coppia davvero molto bella. . . Luca Onestini e Ivana Amrazova sempre più vicini, fidanzamento in vista?. . E mentre si cerca di capire se il tempo riuscirà a far avvicinare sempre di più Ivana e Luca, i fan continuano a tifare per la nascita di una bellissima storia d'amore. . . A quanto pare, il destino potrebbe farli innamorare prima ancora di quanto si pensasse. . Già a pomeriggio 5, la ragazza ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti di Onestini, senza escludere assolutamente la possibilità di vederli insieme al più presto. . 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